Buonasera a tutti, io sono Mary, siamo Mary on the cross, alla monica e alla chitarra a capa, alla battaglia a me, al vostro giro e alla chitarra a canta. Siamo molto onorati di essere questa sera e auguriamo un buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.